Il progetto Riserva Saline è finanziato dalla Fondazione con il Sud assieme a diverse associazioni, enti e realtà, a partire dal WWF, ente gestore della Riserva delle Saline. In prima linea c'è anche il legambiente con il circolo Nautilus su Trapanierice, guidato da Venigno Martinez, oggi alle Saline, assieme a Filippo Salerno, responsabile del progetto. A dare il benvenuto al gruppo, davanti al mulino Maria Stella, la direttrice della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, Silvana Pecentino, che ha illustrato il lavoro di tutela fatto in questi anni dal WWF, soffermandosi sull'importanza delle visite guidate per fare conoscere i grandi risultati ottenuti in oltre 20 anni di gestione dell'area protetta. L'iniziativa di questa mattina rientra nell'ambito della giornata mondiale delle zone umide previste dalla Convenzione di Ramsarm e la Riserva delle Saline, tra i siti tutelati dalla Convenzione internazionale. Un grande patrimonio di biodiversità che questa mattina ha riaperto le porte per la seconda visita guidata prevista dal progetto Riserva Saline. Dopo l'appuntamento iniziale al mulino Maria Stella, il gruppo si è spostato a Nubia, alla Salinella, l'unica a avere la bocca direttamente sul mare. Tra le saline, dette cattoliche, viene anche chiamata Sette Bocche ed ancora oggi si può ammirare la spira di Archimede ed un mulino che veniva usato per spostare l'acqua dal canale alle vasche. Nella Salinella c'è anche un mulino americano di quelli che si autoregolavano in base al vento e ciò che resta della casa del curatolo. Passeggiando tra canali, ae e montagnetti di sale, i visitatori questa mattina hanno fatto anche beard watching, osservando gli uccelli presenti a partire dai fenicotteri rosa. Ma il personale del WWF si è soffermato sugli oltre 230 esemplari presenti nella riserva delle Saline, a partire dai cavalieri d'Italia, le spatole e le avocette, oltre che sulla straordinaria varietà botanica con qualcosa come 450 specie alofile, tra cui la rarissima calendula marittima, tra le piante gravemente minacciate di estinzione. Ma il racconto tra le meraviglie delle Saline è passato anche dalla Artemia Salina, il piccolo crostaceo che si nutre di una microalga i cui caro tenoidi colorano di rosa le piume dei fenicotteri. Ai visitatori, tra le altre cose, è stata anche spiegata l'organizzazione del lavoro nelle Saline e la suddivisione delle vasche, dalle fredde alle retrocalde, per poi continuare nelle ruffiane e nelle calde, per concludersi nelle caselle salanti, dove il cloruro di sodio si cristallizza e viene raccolto. Un viaggio nell'acqua antichissimo, dove si intreccia il lavoro dell'uomo e natura, oggi diventato un habitat unico che fa della riserva delle Saline di Trapani e Paceco un'oasi della biodiversità da salvaguardare e fare conoscere sempre di più.